Terra Amara, trame turche, Muigan far avvicinare Sabatin e Yulide. Svariati colpi di scena accadranno durante le nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano la nascita di una possibile storia d'amore, il dottor Sabatin Arkan, Turgayadin, si avvicinerà infatti alla PM Yulide, a Liza Ozturk, durante una cena a casa di Muigan e Yilmaz. Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su canale 5 rivelano che Sabatin inizierà a guardare con occhi diversi una donna. Tutto inizierà quando Sermin incolperà ingiustamente Demir della morte di Cengaver, video avvenuta in realtà per mano di Atip. La PM Yulide, a questo punto, prenderà in carico le indagini dell'omicidio. A tal proposito, la donna sarà costretta a cambiare opinione sull'eco-imprenditore quando la moglie di Sabatin ritratterà la propria deposizione pur di scagionarlo. Nel frattempo, il dottor Arkan si reccherà da Yulide per presentare ufficialmente la sua richiesta di divorzio dopo aver scoperto le malefatte di Sermin. Ben presto, si scoprirà che l'uomo ha conosciuto la pubblico ministero in modo del tutto particolare. Nelle puntate turche di Terra Amara, Sabatin soccorrerà Yulide in preda a una crisi ipoglicemica nel corso di una discussione con Ocar, Vaide Persin. In questa circostanza, il dottor Arkan consiglierà alla pubblico ministero di recarsi in ospedale per sottoporsi ad alcune visite approfondite. In questo modo, la donna avrà modo di conoscere anche Muigan. Proprio quest'ultima non potrà fare a meno di notare la strana sintonia tra Yulide e Sabatin. Per questo motivo la dottoressa Ekimoglu organizzerà un piano per avvicinarli ulteriormente. Muigan, Melike Ipechialova, inviterà Yulide e Sabatin a cena nella vecchia casa di Sermin in cui si è appena trasferita con Yulmaz e sua zia Beice. In questo frangente, il medico e la pubblico ministero inizieranno a lanciarsi sguardi profondi ed intesa sotto gli occhi di tutti i presenti. Il possibile idillio sarà ben presto sarà ostacolato da Sermin, la quale dimostrerà di essere gelosa dell'ex marito. Nonostante abbia intrapreso una storia extra coniugale con Atip. Cante su, cuante su, cuante su, cuante su, pot eu susa? Acum ca nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot sa ma should Tutto mai sus Mai sus Totto mai Totto mai sus Totto mai Mai sus Totto mai Totto mai sus Si poate-ti dau totul peste cap Că poate fac doar lucruri care-mi plac Poate nu mă imbrac la costum Poate nu spun minciuni Sunt liber să fiu stăpân Pe ce fac și ce spun știi Nimic nu mai e la fel Copilăria s-a maturizat sever